Giacomelli 1-2 con Delia, Delia quasi un corner per Delia, pallone che arriva e arriva anche il gol di Rajcevic con il sinistro sempre Galano, Rajcevic doppio tocco davanti alla porta, Violano, Violano 2-2, 23-31 Rajcevic che difende con il corpo alla posizione, si gira Rajcevic, mamma mia che gol ha fatto Filip Rajcevic e poi va a prendersi l'abbraccio di tutta la curva, questo è proprio bravo, questo è proprio bravo pronto Giacomelli, palla che gira e va a morire in porta, Giacomelli 4-0 con questi lanci molto precisi per Giacomelli, Giacomelli in area, Giacomelli in area salta, ci trovo, rete, rete, rete bellissimo, bellissimo, bellissima azione di Giacomelli che dice questo è mio, l'ho fatto io bellissimo gol di Giacomelli che ha saltato pallone buono per Cinelli, arriva Delia, 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 avanti il Vicenza con Salvatore Delia 2-1, 2-1 per i bianco-rossi, meritatissimo, primo gol in campionato, va a prendersi tutto cross di Laverone, Rajcevic e nel 2-0 per il Vicenza, la piazzata Rajcevic, quinta rete in campionato, 2-0 il cross ancora di Laverone, ancora lui, dopo il passaggio a Cinelli, secondo assist e la piazza Rajcevic, non può far niente l'Anni, 2-0, doppio assist di Laverone avanza Giacomelli che è fresco, entra in area Giacomelli, tiro, rete, il vantaggio del Vicenza è appena entrato in campo e Bagua, eccolo qui, primo gol di Giulio e Bagua al sedicesimo minuto, sblocca la situazione e il Vicenza passa in vantaggio va tutto molto bene il primo corso alla battuta, fischia Nasca, il cross di Galano, colpa di testa, il vantaggio con Giulio e Bagua sono passati nemmeno tre minuti di gioco ed è Bagua gonfia la rete portando in vantaggio i bianco-rossi sul calcio di pulizione di Galano con Giacomelli, pallone al limite, e Bagua, rete, rete, rete del 2-0 ancora lui, ancora Giulio e Bagua, 22-30 si è preso il pallone, eccolo la sua esultanza, il toro e Bagua, 2-0 signori con il tacco per Galano, si gira, Galano, Galano! eccolo qua, il super gol di Cristian Galano, al trentaduesimo minuto Vicenza in vantaggio, Cristian Galano all'incrocio dei panni Vicenza sembra poter sfondare, cross, eccolo qua torna il gol, finalmente, si libera dal peso Filippo Rajcevic, 2-0 l'unica squadra che ci fa sognare lontani dal campo ma vicini col cuore per vivere ancora la nostra passione e chiudere gli occhi e riuscire a sentire quell'emozione nel vederti giocare e tutto lo stadio comincia a cantare bianco rosso è il colore bianco rosso è l'amore che mi porto nel cuore di questa città forza Vicenza Leale forza Vicenza Leale forza Vicenza Leale forza Vicenza Leale bianco rosso è il colore bianco rosso è l'amore che mi porto nel cuore di questa città forza Vicenza Leale forza Vicenza Leale forza Vicenza Leale forza Vicenza Leale